Nella parte di apertura del nostro video, parleremo di una notizia che ha scatenato polemiche e dibattiti. Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice in dolce attesa, ha condiviso un pensiero su Instagram che ha generato una reazione inaspettata. Federica ha annunciato di essere «triste» per aver raggiunto la taglia 48, e questa sua affermazione ha fatto esplodere una discussione sul «body shaming». Il suo post su Instagram, accompagnato da una faccina disperata, ha scatenato reazioni contrastanti da parte dei suoi follower. Alcuni di loro hanno difeso la sua onestà, mentre altri hanno considerato il suo commento inappropriato. Questo ha portato Federica Pellegrini a rispondere alle critiche e fare chiarezza sulla sua affermazione. Nella parte finale del video, inviteremo gli spettatori a iscriversi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati su notizie e discussioni interessanti come questa. Mantenete un occhio attento, e non dimenticate di seguirci su Facebook e di iscrivervi al nostro canale Telegram per altre notizie intriganti. La vostra iscrizione ci aiuterà a portare avanti queste discussioni e a condividere contenuti interessanti. Restate con noi.